Scuderi della Malaspina siamo con Leonardo Tiozzo che ha appena concluso il suo Grand Prix Special dall'applauso che ha giunto dalle tribune direi un'ottima prestazione Leonardo. Sì sì sono molto contento è il primo Grand Prix Special a livello internazionale della mia cavalla e sono molto soddisfatta anche perché è una cavalla che abbiamo cresciuto noi in addestramento e quindi portarla a questi livelli è la soddisfazione più grande. Leonardo tu hai fatto un'esperienza all'estero vero? Sì. E dove sei stato? Sono stato un anno in Germania. Ah e sei stato seguito in Germania? Sono stato seguito da un tecnico lì in Germania ho lavorato per una grossa scuderia di dressage di cavalli da commercio e ho fatto una grandissima esperienza. E adesso sei tornato qui in Italia? Sì adesso sono tornato qui in Italia. E ti alleni? Mi alleno a Roma dove ho sempre vissuto. All'Asperteam se non sbaglio? Sì sono all'Asperteam. Perfetto quindi sei venuto qua per questa trasferta come ti sei trovato in questi giorni? Molto bene struttura molto bella buonissima organizzazione campi di ottima qualità quindi un concorso molto positivo. Domani sei ancora in gara? Domani no noi abbiamo finito oggi. Avete finito torni a casa? Torniamo a casa un po' di riposo per la cavalla e pronti per le prossime trasferte. Perfetto in bocca al lupo e viva il lupo. Grazie mille. Grazie.